Sky Prima Fila presenta La macchina? Di chi è? C'è mia La miniserie in due parti, in un unico grande evento Non è fatto uno come te a comprarsi una macchina così? Eh niente, se è tre anni che fa so rapine Elio Germano La polizia di tutto il vento gli dà la caccia, lui cosa fa? In dieci minuti si porta via dove vinta le dorme Io ti faccio ammazzare No, lo prendete, vai! Faccia d'Angelo Da venerdì 15, solo su Sky Prima Fila Grazie